Conclusione del Giro d'Italia di ciclocross, Alice Maria Arzuffi riesce a mantenere la maglia rosa, Alice un percorso che conoscevi, descrivici la tua gara. Sì, è un percorso che conoscevo, sono già diversi anni che corro qua a Roma, un percorso molto veloce, oggi era asciutto, era proprio un bigliardo percorso veramente veloce, la gara è andata bene, sono contenta comunque anche del mio secondo posto, anche se non sono riuscita a portarmi a casa la vittoria, nel senso comunque che il mio secondo posto sia un secondo posto prestigioso, visto che comunque la gara l'ha vinta Eva Lechner, finalmente riesco a portarmi a casa questa maglia, sudata gara dopo gara, tappa dopo tappa, ma sono molto contenta, speriamo di concludere al meglio la stagione. Pensavi di riuscire a tenere la Lechner negli ultimi giri o hai dato più che altro a controllare la Teocchi? Beh, sicuramente mi sarebbe piaciuto vincere la gara qua a Roma e portarmi a casa la maglia rosa con una bella vittoria, io ho dato il massimo, ho tenuto la Eva finché riuscivo, però quando ho visto che comunque aveva una marcia in più ho cercato di controllare la posizione senza rischiare troppo, insomma. Adesso si pensa all'italiano. Esattamente, all'italiano e poi a fare un bel finale di stagione, penso che rimangono solo le gare più importanti, insomma. Ok, complimenti e grazie mille.